Ciao a tutti sono Bom, 777 bentornati in un nuovo pack opening E' il secondo dei team of the year, sono usciti centrocampisti Io sono carico, lo voglio trovare, voglio trovare Di Maria L'altra volta ho detto che giocatore volevo trovare e non l'ho trovato Questa volta magari succederà al contrario, non lo so Questa volta non andremo ad aprire questi qua da 25.000 perché l'altra volta mi hanno fatto abbastanza schifo Andremo ad aprire questi da 15.000 Ne andremo ad aprire 10 così risparmi un po' di crediti e magari alla fine quando ci sarà tutto faccio un altro mega pack opening Perché io un blu lo voglio trovare Ci siamo, iniziamo con il primo, questo qua ha 24 oggetti però 20 oro di quei 7 rari Ok, ah finalmente dopo un caricamento infinito ci siamo Primo pacchetto, dai, ah guarda quant'è mi fortuna Vargas, ritorno allo schifo, ma dai questi qui posso anche trovare le forme fisiche rare, è vero? Vabbè, nel primo una bella merda, scartiamo tutto Ok, secondo, io vi ricordo di mettere mi piace a questo video se volete vedere altri pack opening Qui abbiamo il sharawi Ancora solo un giocatore raro Perché sto parlando così? 2000 crediti cabella Dai con il terzo lo salto, Naldo E contratti, così Numero quarto, numero quattro Amsic E tu argento Stavolta io ho trovato i giocatori rari, però gli argento Ma cosa dovrei dire io? Perché non trovo mai niente? Perché non... ma perché? Salto pure questo Porta sfiga a saltare La sfiga ce l'ho in automatico, proprio così Però se il salto pure è ancora peggio Sei, dai se non trovo niente apro anche due da 25.000 Keen Probabilmente alla fine gli aprirò quei due Così faccio 200.000 tondi e basta Settimo pacchetto o sesto pacchetto Ottavo pacchetto Probabilmente è il settimo Non lo so Forse l'ottavo Qui abbiamo un 82 È il massimo che abbiamo trovato oggi Ah no, comunque abbiamo trovato anche Amsic 83 ci dicono dalla regia Grazie regia Penultimo pacchetto di questi da 15.000 Questa volta non lo salto qui Abbiamo Vidal Abbiamo visto 85 Piano piano forse stiamo salendo Dai che ce la facciamo a trovarlo No, non è vero E quindi ultimo di questi da 15.000 Dai Fammi trovare adesso e poi basta Aduris Lui voleva trovare, sì Va beh, va beh, va beh, va beh, va beh Troppa, troppa, troppa sfiga Non trovo mai niente Dai Higuain, portami fortuna Per una volta nella mia vita Fammi trovare bacca Adesso vomito, vomito Perché questo schifo E questo quindi dovrebbe essere l'ultimo pacchetto di oggi Wow Vabbè Vabbè, vabbè, vabbè La delusione sulla mia faccia Invece ne apro un altro Dai, 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 dai Ho ingannato FIFA L'ho ingannato L'ho salto o no? L'ho salto o no? Sì, l'ho salto? Sì Ho trovato quello che volevo In ordine un 75 Un 76 Un 77 Ah, poi abbiamo anche il 67 E il 68 E quindi Anche per questo Pack opening Tristissimo È tutto Vi ricordo che non è ancora finita Perché mancano gli attaccanti E io Lo devo trovare Non è che lo voglio Lo devo Quindi Fidatevi Lo trovo Ecco Ho tirato la buffata Che faccio di sempre Non troverò mai più niente Se il video ti è piaciuto Metti mi piace Iscriviti al mio canale E commenta Da bomb777 È tutto Ciao a tutti